La Kelsey School è una scuola paritaria bilingue innovativa. L'ambiente di apprendimento, infatti, è strettamente connesso alla ricerca scientifica grazie alla neurodidattica. Inoltre, il nostro approccio psicoeducativo ci permette di instaurare un rapporto accogliente con i nostri alunni e le loro famiglie, fortemente orientato al benessere, sostenendo lo sviluppo delle abilità per la vita. Alla Kelsey nessun giorno è uguale all'altro, perché la crescita è un processo inarrestabile e noi lo promuoviamo con competenza.